Musica Bentornati sulle emittenti di Campania Felix, stasera uno speciale sul Pride che si organizza a Napoli. Diamo il benvenuto al Presidente della Seconda Municipalità, Francesco Chirico, benvenuto su Campania Felix. Grazie. Oggi è sabato 3 luglio, siamo lieti di vedere tanta gente per strada che gode delle bellezze della nostra città. Francesco, quanto era importante la ripartenza? È stata fondamentale, soprattutto il centro della città, ha sofferto in modo particolare la contrazione di persone, di turisti, di attività dovute al Covid. Molte aziende sono state davvero sull'orlo del collasso, molte purtroppo non ce l'hanno fatta. Soprattutto quello che mi preoccupa è la mole di lavoro e di indotto che c'era intorno al turismo e quindi penso ai tanti ragazzi dei quartieri spagnoli, per esempio, o di altre zone della città impegnati nei mesi prima della pandemia, nelle attività di ristorazione e che adesso sono in difficoltà perché appunto c'è meno lavoro, c'è meno gente, ma pian piano vedo, inizio a vedere, qualcuno mi diceva ai quartieri spagnoli qualche settimana fa in un giro che facevo, Presidente, sentimmo rumore e chilicose. Chilicose erano i trolley, quindi questo è un segnale molto positivo. Quindi diciamo il rumore dei trolley paventano il ritorno alla grande per il territorio della città di Napoli, della venuta dopo post-Covid di tutta una serie di persone legate al turismo. Ecco, appunto parliamo di turismo, il Pride a Napoli, espressione naturalmente libertà, noi siamo promotori di un'iniziativa diciamo a favore della libertà di espressione, di amore, di tutto. Tra le piazze avete scelto la Piazza Dante, voi avevate tante piazze da scegliere, come mai avete scelto Piazza Dante? Questa è una scelta che fa l'organizzazione del Pride napoletano e devo dire noi come Municipalità abbiamo sempre accolto non solo con la nostra partecipazione, ma anche proprio votando degli ordini del giorno che andavano nella direzione della vicinanza al Pride e della visione ufficiale da parte della Municipalità, perché devo dire abbiamo fatto un grande lavoro anche di sensibilità rispetto a quelle forze politiche che non sono proprio vicine al mondo LGBTQI, ma invece nell'ambito del territorio e della Municipalità si è avuta anche quella maturità di capire che oggi ancora continuare a parlare di diversità, ancora iniziare a parlare di genere è qualcosa di sbagliato. basti pensare che se restiamo sul tema della natura la biodiversità è un concetto assolutamente positivo, anzi estremamente necessario per la nostra sopravvivenza e quindi andare lì a dare dei giudizi, a soffermarsi sul gusto sessuale è assolutamente anacronistico, c'è solo l'amore che ci unisce e questo è indipendente da qualsiasi genere, da qualsiasi sesso, da qualsiasi orientamento, quindi noi siamo molto orgogliosi che il Pride parta ancora una volta da Piazza Dante, anche oggi come in tutte le edizioni le 10 da cui sono presidente ho partecipato in questa veste istituzionale, ma in passato ci ho sempre partecipato anche da consigliere della Municipalità o semplicemente da libero cittadino perché è una scelta di campo che prescinde dalla politica. Diciamo che Napoli e nella fattispecie la tua Municipalità è abituata a vivere nelle diversità culturali, di religione, è un quartiere accogliente la seconda Municipalità? Assolutamente sì, anche come Municipalità abbiamo istituito la consulta delle pari opportunità negli anni passati, siamo stati l'unica Municipalità che è riuscita a mettere insieme il mondo di associazioni che si occupassero nella declinazione di pari opportunità non solo però legate al concetto della differenza uomo-donna, ma pari opportunità come possibilità di accesso di tutti agli stessi diritti, agli stessi obblighi, alle stesse opportunità. Ora abbiamo parlato del Pride, delle iniziative naturalmente legate al turismo, ma fondamentalmente mi interessa una cosa, dopo dieci anni ormai di presidenza di questa Municipalità, questa esperienza di Presidente cosa ti ha lasciato? Al di là della battuta facile sulla stanchezza, ma non è vero, i capelli bianchi, ma devo dire che mi ha lasciato innanzitutto la consapevolezza che se si vuole essere un buon amministratore, un politico serio, non bisogna avere fretta nel fare le scelte. Mi spiego, se l'azione politica e amministrativa segue il ritmo del tornato elettorale, commette un errore gravissimo, ma piuttosto bisogna occuparsi del benessere dei cittadini, di lavorare sul territorio, ascoltare gli stakeholder o comunque chi ci vive quotidianamente e lavorare appunto avendo una visione. La visione deve essere necessariamente di lungo periodo. Se in questi anni io avessi avuto sempre fretta, inseguendo le elezioni che si susseguono ormai ogni due anni, non sarei stato né un bravo amministratore né un politico serio. Quindi questi dieci anni mi hanno lasciato questa consapevolezza, mi hanno lasciato un'infinità di rapporti e di relazioni davvero importanti, mi hanno aiutato tutto questo confronto avuto in questi anni con cittadini, associazioni, professionisti, mondo delle professioni, scuole, insegnanti, ragazzini, scunnizi. Insomma tutto questo sapere che mi è stato trasmesso sicuramente mi ha arricchito molto da un punto di vista proprio personale, umanamente proprio così. Diciamo che si fa il presidente della municipalità, si impegna il proprio tempo sottraendo la propria famiglia, il proprio naturalmente lavoro, ma soprattutto lo si fa per passione della politica e quindi per migliorare le condizioni di quel quartiere. Ma sì, questo è un po' lo scotto da pagare per chiunque vuole fare politica seriamente, ovviamente se dedichi tanto tempo agli altri, infatti un po' all'inizio mi feriva, sai quando qualcuno diceva ai politici, poi ci fa un po' il callo all'insulto che sostanzialmente poi è figlio di una poca conoscenza, non solo delle vicende personali e umane, ma proprio anche dell'impegno politico, puntare il dito è sempre facile, ma io ho imparato che nell'amministrazione 2 più 2 non fa mai 4, quindi non è così tutto scontato come sembra, ma il prezzo da pagare è certamente quello di sottrarre gran parte del proprio tempo alla propria vita personale, ai propri affetti, alle proprie relazioni. C'è poco da fare, questo è il prezzo da pagare, ma ne vale la pena anche nell'ambito municipale dove certo fare il presidente di municipalità o il consigliere municipale è ancora peggio da un punto di vista, se vogliamo, di soddisfazione personale non è paragonabile a quella di un consigliere regionale o di un deputato o di un senatore, o lo stesso sindaco, il sindaco nel caso specifico annulla completamente la propria vita, non esiste più Natale, Ferragosto, è tutto dedicato alla causa pubblica e lo puoi fare solo se hai una grande passione, perché quale prezzo potrebbe pagare il fatto che tu non puoi stare con i tuoi figli il 31 dicembre piuttosto che a Natale, insomma o magari a un compleanno perché c'è un evento più importante, non di tuo figlio, ma più importante per il tuo ruolo, quindi questo è un po' quello che accade, però siamo contenti di quanto fatto, di questa esperienza e metti in conto anche che non puoi piacere a tutti. Ascoltando le tue parole, quello che spesso non si fa è ricordare ciò che si è fatto. In questi dieci anni nel tuo municipio cosa hai fatto, cosa hai lasciato a chi verrà eventualmente dopo di te e che cosa hai migliorato come qualità di vita? Cioè dimmi qualcosa, di a chi ti ascolta, che spesso non sono tutti le unità tastiera che criticano sempre ma spesso la gente non è semplicemente informata di quello che succede. Quindi diamogli dei dati, cosa abbiamo fatto in questi dieci anni? Sicuramente in questi dieci anni lascerò a chi verrà dopo di me in municipalità una serie di relazioni importanti con tante realtà del territorio che hanno comunque contribuito con le loro idee anche ad alcuni successi della municipalità. cito alcuni e quello è evidente, tipo i giardini di Santa Chiara che io riporto sempre come esempio perché erano dei giardini abbandonati dove sono morte delle persone senza fissa di mura e oggi grazie alla sollecitazione che io ebbi al tempo dal Comitato Centro Storico c'è un parco giochi. Ricordiamolo che sta nel cuore proprio del chiosco di Santa Chiara ed è fruibile oggi da tantissimi bambini. Sì, tanti bambini nel territorio che non avevano spazi e lì sempre c'è un progetto che ora è ormai in addirittura d'arrivo che è quello di far tornare il campanile visitabile. Qui tra l'altro il recovery plan ha aiutato molto perché so dal fondo edificio di culto che è proprietario del bene che c'è un finanziamento e quindi con l'università attraverso una convenzione che aveva fatto con la municipalità stiamo facendo il progetto definitivo che poi verrà finanziato direttamente dal ministero attraverso il recovery plan. Quindi c'è un finanziamento ufficiale, probabilmente da qui a un anno si potrà salire sul campanile di Santa Chiara. Si parla anche durante il tuo mandato della riapertura di qualche museo? Abbiamo lavorato soprattutto sull'apertura del Parco Viviani, abbiamo recuperato, ora stiamo facendo i lavori al Parco Ventaglieri incrementato la raccolta differenziata nella seconda municipalità in quasi in buona parte dei nostri quartieri ma nel 2011 quando ho iniziato ad essere presidente non c'era una zona della seconda municipalità servita alla raccolta differenziata. Certo abbiamo avuto scarsissime risorse soprattutto negli ultimi cinque anni davvero poche ma quelle che abbiamo avuto abbiamo cercato di farle fruttare nel miglior modo possibile abbiamo incrementato la pedonalità, siamo intervenuti su tantissime scuole, ha aperto quattro nuovi asili nido quindi insomma c'è stato un lavoro importante ripeto pur nella scarsità delle risorse economiche a disposizione e pur nella difficoltà della continua riduzione del personale che va in pensione e non viene sostituito quindi basti pensare che io ho iniziato questa esperienza dieci anni fa con circa 35 giardinieri adesso ne ho uno solo, giusto per dare dei numeri Allora diciamo che tra le difficoltà i pochi fondi che arrivano comunque hai contribuito a cambiare il volto di un quartiere che per i turisti rappresenta veramente quello da visitare, l'esperienza da vivere quando cammini nel quartiere cosa ti dicono i tuoi cittadini dopo questi dieci anni? un po' gli dispiace che tu vada via Qualcuno ancora non l'ha capito perché poi non tutti conoscono le regole della pubblica amministrazione quindi non tutti sanno che dopo due mandati non ne posso fare il terzo quindi quando poi mi fermo e mi dico Presidente allora si vota Per tutti sei il Presidente Esatto, per tutti sono Presidente quindi dico Presidente allora adesso si vota, facci sapere guarda io non posso essere più candidato alla Municipalità ma veramente perché? Come si fa adesso? Ma poi ci sta una persona tua? Ovviamente Poi questi sono giochi dinamiche molto complesse vedremo che cosa accadrà Io mi auguro di poter dopo dieci anni dire la mia su quello che possa essere il prossimo Presidente però è altrettanto evidente che è una fase politica così liquida ma io stesso sono stato nelle ultime settimane in difficoltà perché termina un progetto che è quello di De Magistris dopo dieci anni e non tutto è scontato quindi io ti dico oggi non sono ancora nelle condizioni di dire chi sosterrò alle prossime elezioni comunali e né tanto meno se io sarò candidato al Consiglio Comunale perché voglio dire si può fare politica anche non essendo eletto non stando nelle istituzioni dopo vent'anni qualcosa in questa città e soprattutto in quel territorio credo di averlo detta, qualcosa l'ho fatta e sono soddisfatto di quanto finora sono riuscito a realizzare ora vedremo se ci sono le condizioni e se c'è un progetto interessante in cui valga la pena ancora spendere tempo ed energie sottraendole appunto alla propria professione alla propria famiglia, ai propri affetti diciamo che una delle cose che più ti apprezzano tutti è proprio il tuo spirito di concertazione rispetto alle parti sociali il fatto che ti fermano per strada è indice che praticamente tu parlavi con ognuno di loro cercando di risolvere le piccole e grandi stanze dei cittadini io penso che questo un po' ti mancherà l'affetto dei cittadini indubbiamente, sicuramente credo che resti però magari non il ruolo ma l'affetto quello che hai seminato le relazioni che hai costruito ritengo che siano tutte autentiche perché io ho cercato sempre di mettere la municipalità in una posizione di ascolto e di accoglienza quindi senza mai avere la presunzione di conoscere la verità ma magari anche cercando di portare i cittadini a una riflessione e a fargli capire che in alcuni casi quello che loro chiedevano non era esattamente la cosa migliore che si potesse fare in alcuni casi invece avevano ragione loro quindi sono arrivati degli ottimi suggerimenti In ogni caso però c'è stato un confronto e non una distanza con la politica No, sempre, sempre un confronto con la gente sono loro che poi vivono il territorio noi siamo protempore e le tue scelte possono incidere sulla vita delle persone anche ai miei collaboratori ho sempre cercato di far capire che prima di prendere una decisione è necessario ascoltare il territorio non solo chi ti sottopone la decisione e tu credi che sia quella cosa giusta perché anche per l'esperienza personale ormai dopo tanti anni mi è chiaro che è difficile che venga qualcuno nel tuo ufficio per darti una pacca sulla spalla e dirti ma che bel lavoro come siete stati bravi mentre invece è più probabile che venga qualcuno a lamentarsi di qualcosa che non funzioni quindi normalmente chi viene e ti chiede è qualcuno che porta un'esigenza legittima ma personale ora la capacità di un buon amministratore è capire se quella richiesta migliora la collettività o migliora solo un singolo a questo punto tu mi parlavi dei tuoi collaboratori durante questi anni chi ti sente di ringraziare? beh sarebbero troppi all'interno della municipalità tanti consiglieri assessori che mi hanno accompagnato in questo viaggio molti ci hanno messo davvero impegno e cuore qualcuno un po' di meno qualcuno è stato allontanato ci sono sicuramente i tantissimi dipendenti comunali i giardinieri o i fognatori che con i loro acciacchi e l'età avanzata prossimi alla pensione comunque non si sono risparmiati nel loro lavoro i dipendenti della municipalità che ogni giorno hanno a che fare con decine e decine di persone e a volte devono anche avere l'equilibrio di sopportare magari chi è venuto a fare un documento e si è svegliato col piede storto e ce l'ha con tutto il mondo ma può capitare anche a un dipendente di svegliarsi con il piede storto di aver fatto di passare un momento parte dell'umanità e devo dire loro sempre con grande professionalità hanno affrontato il loro impegno devo anche ringraziare dei magistris non perché io sia stato eletto grazie a lui perché con tutto l'affetto per Luigi ho iniziato prima di lui a fare politica lui è più famoso di me ma insomma non è questo ma perché Luigi è una persona che al di là delle scelte amministrative alcune molto valide altre meno è un uomo che sicuramente ha dato il cuore per questa città si è impegnato molto poi ha avuto come tutti un periodo difficile negli ultimi tempi ora è concentrato sulla Calabria gli facciamo migliori in bocca al lupo perché riesca in quella che è la sua seconda terra sostanzialmente quindi tu diciamo parti da un augurio per la sua campagna elettorale su un altro territorio come presidente della regione Calabria in realtà però vorrei che tu lasciassi i tuoi contatti per far scoprire a coloro i quali vedranno questa intervista se la tua diciamo carriera politica in qualche modo vada avanti quali sono i tuoi contatti dove le persone e chi ci sta seguendo da casa potranno scoprire questa cosa ma basta andare su Facebook cioè sia il mio profilo Francesco Chirico che è aperto sia la pagina sempre Francesco Chirico la si trova molto semplice insomma io ti ringrazio per questa chiacchiera amabile ti auguro un buon proseguo di serata e grazie a tutti buonasera grazie grazie a te e saluti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti